Soddisfazioni per il Crystal Skating Team al campionato europeo di pattinaggio a rotelle, gruppi spettacolo e sincronizzato che si è svolto dal 9 all'11 maggio per i gruppi show al Paladigi di Reggio Emilia. Il grande gruppo Vicentino, già campione italiano a marzo con il suo programma Il peso dei miei errori, ha conquistato il terzo posto con una prestazione che ha lasciato anche un pizzico di rammarico per aver respirato l'argento. La compagine che riunisce 24 atleti ed atleti più due riserve delle società Abba Fara e Bassano New Skate ha convinto i giudici europei di una stata penalizzata di un punto per alcune cadute, senza le quale il secondo posto dietro gli raggiungibili ed eterni spagnoli del gruppo Ollot sarebbe stata portata di mano, anzi di pattino. La squadra si è presentata a Reggio Emilia con la formazione composta da Elena Azzolin, Giada Biasini, René Biasini, Virginia Bonollo, Eleonora Borgolazzi, Micaela Busatta, Vittoria Casarotto, Cristian Cartana, Deborah Codepa, Camilla Dallavalle, Anna Gerizzo, Montalena, Pavris, Giulia Filippozzi, Giulia Fina, Maya Frigo, Giulia Froncolati, Claudia Grigato, Anna Iotti, Viviana Mariotto, Giulia Miotti, Cecilia Moretti, Anita Pavan, Martina Stecuro, Nicola Stefani, Stefania Biaroli e Andrea Zaninna.